Sono state decine e decine le infrazioni rilevate dai vigili urbani lo scorso fine settimana al parcheggio Megalodi Chietiscalo. Il centro commerciale è sempre molto trafficato, soprattutto nella fine settimana ed ancora di più nel weekend dei saldi. I 2000 posti gratuiti, oltre agli 850 messi a disposizione dal comune al pagamento, non sono stati sufficienti ad accogliere il gran numero di veicoli. I vigili hanno sempre fatto il loro dovere andando sul posto, multando le vetture che sostano sugli stalli riservati ai disabili, ma soprattutto da qualche settimana a questa parte c'è veramente un caos totale. Arrivano con le macchine, le buttano in qualsiasi punto, purché non metterle nel parcheggio e vanno dentro nelle attività. Non sono mancate le proteste di chi si è lamentato con i vigili urbani, anche in maniera molto concitata. Io sono stato personalmente sabato scorso e ho visto una strada che non era assolutamente percorribile, perché con il pulmino che porta gratuitamente i fruitori sul posto, non riusciva a girare sul suo tracciato parcheggiati a destra e sinistra con le vetture. I vigili devono fare il loro dovere sulle avviabilità di Megalò e lo fanno, come lo fanno in qualsiasi altro punto della strada, delle strade cittadine. Se ci sono i diveti di sosta a destra e sinistra, in ambo i lati, le macchine vengono multate. Lo sa bene la direzione di Megalò, speriamo che lo comincino a capire i cittadini, purtroppo ci sono quelli che vengono da fuori che hanno altre usanze. Grazie. 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 Grazie.